La festa dei nonni porta una grande sorpresa agli anziani di Brindisi. Dopo oltre tre anni, infatti, arrivano buone notizie dal centro anziani del rione Bozzano, il quale tornerà fruibile. Gli anziani, dunque, potranno ritornare a utilizzare uno spazio a loro interamente dedicato. Una battaglia portata avanti da Gabriele Antonino del Partito Repubblicano, prima da consigliere comunale di opposizione ed ora da presidente del Consiglio Comunale. Dunque, una promessa mantenuta da parte dell'amministrazione Marchionna. Con la delibera di giunta, il centro anziani viene riconsegnato nelle mani del comitato di gestione. Prevede una convivenza con il CSV e con la cooperativa Sant'Egidio, nell'ottica del miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza. Già nella mattinata di oggi, il personale della Brindisi Multiservizi ed alcuni volontari hanno effettuato le operazioni di pulizia dei locali. Ed è già stata avvisata l'ASL a sanificare gli ambienti da tutti i residui della campagna vaccinale rimasti. Il tutto proprio in vista della festa dei nonni che cadrà il prossimo 2 ottobre. Una battaglia che abbiamo iniziato nel lontano, ormai novembre 2021, quando iniziamo con un'opera nel Consiglio Comunale precedente di interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno. Ricordo infatti che all'epoca il centro anziani venne, tra virgolette, sottratto agli anziani per destinarlo ad un uso come centro vaccinale. Una volta finita la campagna vaccinale per il Covid, però poi questo centro non è più tornato in mano agli anziani, quindi organizzammo giornate di protesta. E con la giornata di oggi cominciamo con le opere di pulizia che renderanno poi il centro ripristinato ed effettivamente funzionale. Sì, la festa dei nonni è il 2 ottobre, lunedì non credo che riusciremo già ad organizzarlo, però cercheremo di fare la settimana prossima una festa, quindi comunque in prossimità.